Mohamed Al-Faglietti, il padre di Dodi, ha veramente forzato il figlio a chiedere risposta a Diana? E quello che è successo tra i due ragazzi, la relazione e tutto ciò che ne consegue, è realmente accaduto? Scopriamolo insieme e cerchiamo di capire cosa c'è di vero e cosa c'è di romanzato nei primi episodi della sesta stagione di The Crown che ci hanno regalato la parte più importante della vita di Diana, la parte finale del suo rapporto con Dodi Al-Faglietti fino alla tragica morte nello schianto nel tunnel a Parigi. I primi quattro episodi della sesta stagione di The Crown ci hanno regalato intense emozioni e ci hanno fatto tornare alla mente a quel tragico incidente del 1997 nel quale Diana e Dodi Al-Faglietti persero la vita insieme all'autista nel tragico schianto nel tunnel a Parigi inseguiti dai paparazzi nel tentativo di fuggire da quegli sguardi indiscreti che proprio i fotografi cercavano di far pubblicare sui quotidiani. Questa prima parte della sesta stagione di The Crown ci ha approfondito il rapporto tra Diana e Dodi Al-Faglietti anche se molte delle conversazioni che ascoltiamo, che vediamo tra di loro sono romanzate ai fini del drama che viene raccontato e per questo molti spettatori non hanno apprezzato quello che viene poi mostrato. Infatti la grande forza di The Crown nelle prime stagioni è proprio quella di raccontare i fatti come sono accaduti realmente, quindi conversazioni che per la maggior parte sono venute fuori tramite indiscrezioni o comunque tramite testimonianze scritte di addetti ai lavori al Palazzo Reale, quindi personale, che è stato vicino alla regina Elisabetta e alla famiglia. Mentre per quanto riguarda questa sesta stagione sono state più le speculazioni messe in scena soprattutto nei dialoghi tra Diana e Dodi, ci sono alcune scelte di sceneggiatura che molti fan non hanno apprezzato in quanto trasformano e non poco i fatti che sono accaduti tra i due e la relazione viene trasformata completamente dagli eventi reali. C'è un elemento principale che lega Diana e Dodi Al-Faglietti, ovvero la manipolazione di Mohamed Al-Faglietti nei confronti di Dodi che spinge il figlio a chiedere la mano e a fidanzarsi con la principessa Diana proprio per il prestigio che questo avrebbe portato alla famiglia Al-Faglietti. Infatti nella serie il padre di Dodi viene fatto vedere come un manipolatore che controlla e vuole controllare la vita del figlio in tutti i suoi aspetti. Dal matrimonio fatto saltare con la modella Kelly Fisher fino al rapporto instaurato con Diana che sembrerebbe proprio il padre di Dodi Al-Faglietti aveva invitato solo yacht di famiglia per far avvicinare i due. Altra scelta della produzione è stata quella di far vedere che Mohamed Al-Faglietti contattò Brenna, paparazzo internazionale, per immortalare i due mentre si baciavano sullo yacht di famiglia. Anche in questo caso, come nel caso della manipolazione del figlio per il rapporto con Diana, non ci sono prove ed anzi questa è solo una speculazione messa in scena dalla serie The Crown per aumentare il melodramma che appunto la serie racconta. Una delle scene chiavi della prima parte di The Crown è la scena dell'hotel nella quale Dodi Al-Faglietti chiede la mano di Diana con una proposta di matrimonio e con l'anello comprato alla famosa gioielleria di Parigi di Maui. Questa conversazione però ovviamente è stata completamente inventata perché non ci sono prove che Dodi abbia veramente fatto la proposta di matrimonio a lei di Diana. Soprattutto perché l'unica cosa certa è che Dodi abbia comprato l'anello di finanziamento alla gioielleria e che il padre durante alcuni interrogatori abbia detto che il figlio l'aveva chiamato prima di morire dicendo che aveva fatto la proposta a Diana e che i due stavano per sposarsi. Ovviamente queste sono speculazioni, ovviamente non ci sono prove di questa conversazione tra i due in albergo e quindi non sappiamo se in realtà Dodi abbia fatto la proposta a Diana. Sappiamo soltanto con certezza che il multimilionario aveva comprato un anello a Parigi con la scritta di Maui, ovvero dimmi di sì. Quindi come detto anche dal padre, il ragazzo prima di morire lo aveva chiamato per annunciare il proprio fidanzamento con lei di Diana e quindi le nozze successive ed imminenti. Queste sono le parole di Mohamed Al-Fayed in tribunale quando poi è stato ascoltato dagli inquirenti che stavano indagando sulla morte dei due ragazzi. Un elemento molto importante di questa sesta ed ultima stagione è il rapporto che ci viene mostrato tra Dodi e Mohamed, padre e figlio. Ovviamente i due non avevano questo rapporto difficile in quanto non sappiamo in realtà quanto e come Mohamed controllasse Dodi ma l'unica cosa certa è che la serie ha aumentato questo tono drammatico tra i due in modo da aumentare il pathos e l'affetto verso Dodi che quindi spinto da un padre troppo ossessivo nei confronti della vita del figlio lo ha infatti poi costretto alla fuga successiva dai paparazzi e quindi poi alla morte. Questa dinamica sembra appunto essere presente solo per aumentare quel tocco meno drammatico aggiunto alla serie e per questo i fan non hanno apprezzato moltissimo alcuni aspetti alcune sfumature messe in scena. Altra scena che è stata probabilmente romanzata è quella dell'ultimo incontro con i figli di Diana, William e Terry mentre vanno poi col padre e lei parte per andare a stare con Dodi. qui non sappiamo cosa in realtà si siano detti l'unica cosa che è certa è che quel giorno i figli sono in realtà partiti con l'ex marito di Diana e lei ha raggiunto quindi Dodi sullo yacht oltre a questo ovviamente The Ground ha molto esagerato quei toni drammatici che hanno poi reso a ben dire la serie una gran serie perché l'ultima puntata dell'incidente e del funerale di Lady Diana è veramente veramente da spezzare il cuore. Se non l'avete fatto andate a recuperare assolutamente la prima parte della sesta stagione di The Ground la seconda uscirà con gli ultimi sei episodi il 14 dicembre e spero vivamente che tornerete qui per parlarne insieme. Fatemi sapere intanto cosa ne pensate di queste scelte registiche e di sceneggiatura per quanto riguarda queste prime quattro puntate se siete d'accordo con la troppa accentuazione del melodramma messo in scena da Netflix. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui vi ricordo di seguirci sui nostri canali social Instagram, Facebook e YouTube io sono Valerio Perrone buona giornata e grazie ancora la ciacchiazione. Ciao a tutti!